Il primo è il quarto quadro, il primo è il quarto quadro, il primo è il quarto quadro, No, mo' Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vabbè, ci abbiamo provato. La prossima volta andrà meglio. Bella.